Per venire incontro ai 32 comuni della provincia di Sondrio ancora senza contatore, l'ufficio d'ambito della provincia ha deciso di prorogare il termine per la richiesta dell'installazione dei contatori fino al 30 di aprile, con conseguente conguaglio delle bollette in base agli effettivi consumi dal 1 luglio 2015. Persiste invece per Tullio Catelotti, presidente di FederConsumatori della provincia di Sondrio, intervenuto in merito insieme a Francesco Castellotti, presidente dei consumatori della Lombardia, una situazione di confusione riguardo le informazioni sulle tariffe, che porta ancora molti utenti a rivolgersi all'ufficio dei consumatori per avere chiarimenti, cosa che ha spinto Catelotti a spedire una lettera ai sindaci invitandoli a confrontarsi con l'ufficio d'ambito provinciale. A pesare sono in particolare le lamentele dei proprietari delle seconde case, contro i 320 euro che devono pagare a forfè per consumi che nella grande maggioranza dei casi non hanno effettuato. Ma non solo, sottolinea Catelotti, per noi sono ingiusti anche gli 88 euro da pagare per aprire le pratiche con l'ATO. Intanto, mentre di questi giorni la consegna delle bollette 2015, ci sono ancora case dove non è arrivata la bolletta di chiusura del 2014. La nostra preoccupazione è che il risvolto che ci potrebbe essere quando escono le bollette del primo trimestre 2015 e potrebbe essere una cosa che per SECAM non è assolutamente sopportabile. Questo io lo dico perché se vogliamo salvaguardare SECAM da questa confusione che è stata generata in questo periodo, è meglio che risolva in fretta alcune problematiche. Noi chiediamo oggi a SECAM con una lettera, un incontro breve. Entro il 31 di marzo per l'aggiornamento della carta della qualità dei servizi. Non ci può essere nessun aumento se non c'è un miglioramento della qualità del servizio. Ma dalla FederConsumatori non mancano proposte anche per agevolare il lavoro di ATO e SECAM e si pensa alle oltre 12.000 byte della nostra provincia. Noi avremmo proposto una cosa abbastanza semplice e di buon senso. fare una tariffa fissa 30-40 euro in modo da evitare di installare migliaia di contatori che poi chiaramente d'inverno gelano, necessitano di manutenzione e sarebbe un aggravio proprio perché i contatori sono di SECAM, sarebbe un aggravio anche dal punto di vista manutentivo. Intanto è attesa per il 15 aprile la visita del presidente nazionale della FederConsumatori Rosario Trefiletti che raggiungerà la Valtellina per parlare di acque e di banche.